Previsioni per oggi. Al mattino, al nord, cieli grigi con scroci di piogge intermittenti. Al centro, nubi irregolari contemporanei. Al sud, nubi irregolari con locali acquazzoni. Nel pomeriggio, al nord, cieli grigi con piogge temporali. Al centro, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. Al sud, nubi irregolari contemporanei anche intense. Previsioni per domani, al mattino, al nord, soleggiato ma con nubi sparse. Al centro, schiarite alternate nubi sparse. Al sud, soleggiato ma con nubi sparse. Nel pomeriggio, al nord, soleggiato ma con nubi sparse. Al centro, schiarite alternate nubi sparse. Al sud, soleggiato con poche nubi.